Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei CMP Rigel Mid, uno scarponcino economico perché comunque ha un prezzo decisamente economico ed è uno scarponcino famoso, utilizzato da tanti, ne vedremo in questo video pregi e difetti nella recensione completa. Iniziamo riportando qualche informazione fornita dalla casa. Allora, questo scarponcino nel mio numero 47 pesa 600 grammi, numero 42 dovrebbe pesarne attorno ai 480. Per quanto riguarda invece Tomaya, la Tomaya Waterproof con la tecnologia CMP Clima Protect e anche la suola CMP Full On Grip, quindi tutte le tecnologie che troviamo su questo scarpone sono di proprietà CMP. Iniziamo appunto magari dalla suola, come dicevo CMP Full On Grip, una suola che mi è piaciuta, una suola che tiene bene praticamente su qualsiasi terreno, anche sul bagnato si difende molto bene, una suola che anche dopo averci fatto tanti chilometri come potete vedere non è usurata, sì vabbè si è sporcata, però non è usurata, secondo me ci si può andare avanti per tanti 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 chilometri e grazie a tutti questi inserti laterali molto alti conferisce un ottimo grip anche su quello che è magari un po' di fango, briciolino, un po' di ghiaietta e via dicendo. Passiamo ora all'intersuola. Allora, un'intersuola in eva, il produttore non ne dichiara quanto è il drop, ma dovremmo essere attorno ai 5 mm. Un'intersuola che funziona bene, quando scendiamo anche a velocità sostenute non si sentono i sassi sotto, cioè diciamo che i sassi si sentono il giusto, non è super ammortizzata ma neanche che arriviamo a fine discesa con i piedi rotti. Si sentono il giusto proprio per avere il giusto feeling nella camminata. Salendo invece per quanto riguarda la tomaia, troviamo innanzitutto una tomaia scamosciata che corre dal tallone alla punta con un inserto, un materiale cordato. Adesso non viene specificato purtroppo, ma c'è un materiale cordato nella parte bassa che ne favorisce ancora di più la protezione del nostro piede. Puntale molto forte, puntale molto rigido, col quale possiamo prendere entro nelle rocce e non le sentiremo per nulla. In generale comunque è una scarpa abbastanza molle, questa qua non può essere per nessun motivo ramponata. Una scarpa che i materiali sono buoni, dico la verità, questa pelle scamosciata è veramente molto buona, non ha nessun graffio pur avendola utilizzata per tanto tempo. È una cosa che non mi è piaciuta, è la termicità. Nel senso, io l'ho utilizzata in temperature primaverili e in alcuni casi ho avuto anche caldo. Secondo me questo è uno scarpone, diciamo, da media stagione, quindi primavera-autunno. Non lo utilizzerei mai d'estate perché a mio parere è veramente troppo caldo, almeno che non andiamo a quote un pochino elevate dove magari fa più fresco e nemmeno d'inverno perché non ha la termicità giusta per uno scarpone invernale. Per quanto riguarda il Clima Protect, quindi la membrana waterproof, ecco, forse quella è la cosa che mi è piaciuta di meno, nel senso che la scarpa sì è impermeabile ma non ha questa grande impermeabilità. Mi spiego, se passiamo sopra un po' di fango in mezzo a dell'erba bassa ma bagnata non avremo nessun problema. Se dobbiamo inserire il piede per passare un ruccello, beh, allora c'è il rischio che entra un po' d'acqua. Non è propriamente impermeabile al 100%. Se state cercando uno scarpone super impermeabile, questo non ve lo consiglio. Per quanto riguarda la stabilità dello scarpone, troviamo innanzitutto il collo alto che ne caratterizza la versione mid. È uno scarpone veramente molto molto stabile. È uno scarpone che quando noi andiamo ad allacciarlo ci trasmette tanta stabilità, soprattutto in discesa, la caviglia non tenderà mai a svirgolare. La stabilità è garantita soprattutto da questo sistema utilizzato sul tallone da CMP che una volta serrato va veramente a stringere molto il nostro piede, tanto che risulta abbastanza difficile riuscire a inserire il piede all'interno. Bisogna prenderci un po' di dimestichezza. Poi una volta che lo utilizziamo non c'è nessun problema. Però nell'inserirlo veramente notiamo quanto il collo è molto stretto e successivamente lo renda molto fasciante. In generale comunque possiamo definirlo come il classico scarpone da montagna. Non ha nessun tipo di tecnologia particolare. È uno scarpone che va ammorbidito tanto, tanto, tanto. Cioè le prime escursioni vi farà abbastanza male. Le prime escursioni potrebbe anche provocarvi qualche vescica. È uno scarpone che va ammorbidito. Dopodiché inizia a dare il meglio di sé, inizia anche la parte posteriore a non essere più tanto rigida, inizia a diventare uno scarpone che diventa piacevole utilizzare. Per quanto riguarda invece l'allacciatura, fatta bene, i lacci fatti bene, passanti, nessun problema. È un'allacciatura che va bene, stringe bene lo scarpone attorno al nostro piede, nulla da dire. Forse una cosa da dire è che il laccio è troppo lungo. Nel senso può capitare che allacciato, dato che ne avanza tanto, magari vi intralci un pochino. Nel caso per ovviare o sostituite i lacci, oppure li tagliate e li accorciate senza tanti problemi. Infine, per quanto riguarda la soletta all'interno, è una soletta Ortolite cucita. Quindi non si può andare a estrarre per inserire una nostra soletta. Ma se vogliamo andare a utilizzare la nostra soletta dovremmo mettercela sopra. Una soletta io non ci sono trovato bene, nessun problema, non ho avuto particolari dolori o nulla di strano. Cioè, Ortolite secondo me è sempre una garanzia. Perciò, in conclusione, per chi sono pensati questi scarponi? Beh, visto il loro prezzo così economico, li si trova tranquillamente a 70-80 euro, sia online che nei negozi fisici. Secondo me sono scarponi pensati per chi inizia. Principianti che non hanno magari una buona muscolatura, che non hanno magari quella prontezza di riflessi quando camminiamo un po' sulle rocce. E per questo ci viene tanto in aiuto la stabilità di questa scarpa. Una persona che magari non ha tanta stabilità nella propria caviglia, uno scarpone così duro, così bello, fasciante, ci aiuterà tanto a non avere problemi di distorsioni, slogature e via dicendo. Perciò, nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo. Ciao!